Insieme ad Alessandro Bertolucci, commissario tecnico della Nazionale italiana, dopo la travolgente vittoria ieri per 13-0 contro il Cile, questa sera c'è stata un po' più di sofferenza contro la Francia. Questa qui è una compagine molto complicata, questa qui è una delle pretendenti al titolo. Nell'ultimi quattro anni ha fatto un'escalation credibile, ha tre fratelli di Benedetto che giocano nelle migliori tre club del mondo. Il portiere gioca in Spagna e altri giocatori che giocano nel campionato portoghese e spagnolo, quindi non è una squadra da sottovalutare assolutamente. Ieri ha pareggiato con la Spagna 1-1, quindi da lì si può capire il grande sforzo che abbiamo fatto. Se dovessi rivedere questa partita dove potrebbe migliorare la Nazionale italiana? Dobbiamo cercare di essere un pochino più lucidi quando arriviamo davanti al portiere, però stasera francamente non riesco a trovare un punto debole della mia squadra. Sono stati veramente bravi. Grazie. 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 Grazie.